Buona giornata. La gentilezza è la lingua che i sordi possono sentire e i ciechi possono vedere. Mark Twain. Questa frase è fondamentale. Non mi smetterò mai di ripetere. Praticate la gentilezza amorevole. Praticate la gentilezza, cioè state in ascolto di quello che le persone vogliono. E le persone che per voi contano, praticate, date a piene mani, scambiate con loro gentilezza amorevole. Tutto ciò che loro vogliono. Trattate le persone con gentilezza e ne riceverete il centiclo qua giù, diceva un altro grandissimo personaggio della storia. Ne riceverete il centiclo, non uno, non due, non dieci, cento. Perché la gentilezza è un'arma potentissima, più forte di qualsiasi altro, più forte dell'amore, più forte dell'amicizia, di qualsiasi cosa. La gentilezza vi renderà la vostra vita un posto bellissimo dove vivere. Perché vi riempirà di persone fantastiche. Oggi praticate tanto la gentilezza. Daniele Paci per felicità e pace. Om Shanti Shanti Shanti. Buona giornata. Ciao.